Ciao a tutti e bentornati sulla nostra cacca! Canale, finalmente sono tornata! Oggi è il 23 febbraio e sono tornata da scuola natura quindi io oggi vi farò vedere cosa ho comprato e cosa ho preso quando ero a Baciago Qua abbiamo dei souvenir magnetici per ovviamente il frigorifero e in pratica ne ho presi due perché ero indecisa fra loro e quindi ho preso il primo che è questo qua in pratica ce n'era uno solo con questo quindi poi ho preso questo con questo poi il secondo è una conchiglia con la scritta... allora dopo te lo dico poi ho preso questa qua con la conchiglia c'è un magnet no 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 Ale no no poi eccolo qua l'altro timone e poi con questo... però Ale non devi metterlo no lo voglio provare no no lo rompi lo rompi lo rompi lo rompi lo rompi poi ho preso... visto che i negozi di giocatori là erano chiusi ho preso... c'erano delle patatine Minions in pratica ecco qua c'è il nostro caro Minion qua che ti provo sempre quel fidget là che non mi ricordo come si fa però vediamo anche io ecco qua il nostro caro Minion con le mani e così cos'è questo? il nostro Minion è volato ecco questo cosa qui fa così no? e quindi fa fare Minions volare se lo mettiamo qua pronti? ecco ecco tra le mani gin 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 quindi questo è il nostro Minions Ale indossa un batik una maletta bianca che ho fatto a scuola natura però poi quello vi racconterò ogni volta io vi farò vi racconterò qualcosa in altri video quindi questo era il video di oggi noi ci vediamo domani buona nuova avventura ciao e il titolo di questo video sarà cosa che ho preso a Battiagol cosa che ho preso a Battiagol